super spazio alimentare è il supermercato innovativo per le esigenze di tutti che tu sia un piccolo o un grande consumatore da super spazio alimentare trovi sempre la qualità e il massimo risparmio che cerchi scopri le comodissime fasce prezzo nelle parti mazzellerie salumerie surgelati super spazio alimentare portali di catania amore a prima spesa prossima apertura venerdì 18 novembre a catania parco commerciale i portali